La fusione dei comuni fino a 15.000 abitanti è una norma che salvaguarderà le famiglie. A sottolinearlo Vincenzo Puzzovio dal coordinamento regionale di Europa Verde, partito che sta portando avanti una specifica battaglia su questa tematica, appellandosi anche alla volontà del Presidente Draghi di favorire tale processo. Noi stiamo portando avanti l'Unione dei Comuni tra i paesi vicinori a Maglie, Cursi e Merpignano. Andare ad accorpare questi comuni che hanno meno di 15.000 abitanti significa avere un solo consiglio comunale, una sola giunta e un solo sindaco. E quindi naturalmente tutto l'apparato che pesa enormemente sulle casse degli enti locali andrebbe a ridimensionarsi. Così si eviterà anche di tartassare i cittadini, magari con tutti questi autovelox che sono sparsi in tutti i comuni per cercare di fare cassa. Noi abbiamo già la divisione in collegi voluta dalla provincia di Lecce. Allora basterebbe, e già il professor Draghi sta valutando questa opzione, andare a rivedere tutti i collegi provinciali e unificarli. e naturalmente la città che ha un numero di abitanti più elevato andrà poi ad essere la città capofila di questo consorzio tra comuni.